C'è tipo un'offerta a tempo limitato, c'è tipo il Black Friday e queste robe qua Ah ma questa offerta di Sintro Quattro deve essere grazie al Prime, no? Non lo so No, ma quanto è bello, se ce... Ma sei due secondi fatti la mentre io non shottavo un cazzo Eh, però è veloce, hai capito quale è il fatto, non c'è, hai capito... Ma che cecchino di merda, oh, incredibile Mamma mia Mamma mia come cambi squadra in uno e quattro secondi